Photoshop CS5 Quindi continuiamo ad usare il CS4 Incominciamo Allora, parliamo un attimo dell'area lavoro L'area di lavoro di Photoshop Come potete vedere abbiamo in alto la barra menu O chiamata barra applicazioni A sinistra in questo caso Abbiamo la barra degli strumenti E a destra quella delle finestre o dei pannelli Allora, andiamo per ordine La nostra area di lavoro La possiamo modificare Cosa non possiamo modificare è la barra in alto Ma